Ciao a tutti ragazzi, io sono Zisa, benvenuti alla Zisa TV. Oggi voglio provare il cardoro affogato al pistacchio, perché voglio vedere quanto è pistacchioso, quanto veramente sappia di pistacchio questo gelato. Tutto il gusto di sempre, rispettando l'ambiente, perché è tutto di cartone. Andiamo a leggere gli ingredienti. Allora, latte scremato reidratato, zucchero, sciroppo di glucosio, olio di cocco, sciroppo di glucosio fruttosio, latte scremato in polvere concentrato, pasta di pistacchio 2%, non è poco per essere un gelato industriale, lattosio e proteine del latte, burro di cacao, addenzanti come gomma di guar, farina di semi di carrube, carragenina, emulsionanti, latte intero in polvere, coloranti, spinaccio in polvere, aroma naturale di vaniglia, aromi, contenere soia, nocciole senza glutine, da conservare a meno 18. Allora, andiamolo ad assaggiare. Intanto si presenta così, quindi perché è un variegato, è un affogato, non è un gelato al pistacchio, quindi è gelato alla vaniglia, variegato al pistacchio, con scagliette di cioccolato bianco sopra. Ovviamente, a livello qualitativo, per essere industriale, il carbone secondo me è sempre migliore, perché non diventa mai veramente duro in freezer, si mantiene morbido. Allora, non vi dovete aspettare un'esplosione di pistacchio in bocca, però si sente. Il suo lavoro lo fa. Alla fine è un gelato alla vaniglia affogato al pistacchio. Per essere un affogato si fa sentire, diciamo che non è assente. Ovvio, prevale la vaniglia. La scaglietta di cioccolato bianco va a dare ancora più golosità al tutto. Però il pistacchio si sente. Non è il protagonista, ma sa accompagnare bene la vaniglia e il cioccolato bianco. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, condividete. Iscrivetevi alla Zizia TV e con l'ultima cucchiaiata io vi saluto. Grazie.